Aron Gordon! Non è tra i migliori atleti nella lega, ma quando si fa di schiacciare, anzi, di volare in aria, è migliore. Come dico sempre, stay hard, walk hard, tu sei migliore, continua a schiacciare. Aron Gordon, Granddown Contest 2016. Let's go! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ragazzi, per questo video è tutto, e come dico sempre, stay hard, walk hard, tu sei migliore, Aron Gordon con te a schiacciare, è a volare. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!